Ciao ragazzi e ragazze, oggi video per ovvi motivi, non poteva essere dedicato che a questo argomento, no, non sono i sei mesi di vergola che come vedete porto fieramente sulla mia maglietta, no, dobbiamo parlare assolutamente di quello che è successo in Turchia tra von der Leyen, Michel e Erdogan. Allora, molto si è già detto, è chiaro nel 2021 che un gesto del genere sia da condannare, ma voglio soffermarmi su un aspetto che non tutti hanno avuto modo di approfondire e che forse sarebbe il caso di appunto trattare un pochino più in dettaglio. Ne ha parlato Maria Angela Pira in un podcast dei suoi tre fattori, di cui vi metterò il link qui sotto, e l'ha fatto in maniera molto puntuale, dicendo sostanzialmente esattamente quello che volevo dire io, cioè che non è tanto il caso diplomatico, la gaffe, perché non ci crediamo, nessuno ci crede che sia una gaffe, quanto è l'esempio che viene passato alle nuove generazioni, o in generale che viene passato alle persone. In un momento in cui in Italia si sta parlando di catcalling e di come sono due fischi e quindi le persone non debbano essere offese, le donne, e finalmente riusciamo a chiamare le cose con il loro nome, tra l'altro usando in prestito un termine inglese, perché in italiano non ce l'abbiamo neanche la parola per definire questo fenomeno e questa pratica orrenda. È forse giusto inserire le due cose su uno stesso piano, nel senso che fanno comunque parte della concezione nei confronti della donna. Spesso mi è capitato di parlare di femminismo su questo canale, ci sono persone probabilmente che non hanno ben chiaro a che cosa ci si riferisca quando si parla di certi temi e si porta all'attenzione del pubblico certi episodi che possono essere incresciosi come quelli capitati a von der Leyen anche perché è in vista davanti alle telecamere di tutto il mondo e comunque risulta un caso diplomatico, ma anche sono episodi di tutti i giorni capitati a ogni ragazza come appunto quelli del catcalling. Sono sullo stesso piano? Beh sì, nel senso che fanno tutte parte di una stessa purtroppo matrice, è ovvio che uno ha più visibilità dell'altro, ma non per questo è più o meno importante. Mi viene da dire che in un momento del genere certi discorsi probabilmente, cioè è importante un momento così perché certi discorsi probabilmente non venivano assolutamente, non erano potenzialmente mai sul piatto e sul piano di discussione pubblica fino a qualche tempo fa e la cosa che mi sembra molto, cioè intanto è molto importante che adesso sia così, ma è anche molto importante che finalmente si parli di esperienze di vita vissuta. La stessa Mariangela Pira in un bellissimo articolo che sempre vi linkerò qui sotto ha parlato di quanto a livello giornalistico di carriera in realtà lei abbia subito da un certo punto di vista l'essere donna e quanto in realtà anche nei commenti di tutti i giorni questa cosa emerga. Io sono del parere di Monica Magri, una delle mie mentori, che in realtà l'essere donna non dovrebbe impattare e forse non impatta davvero in una carriera da un punto di vista di quello che uno può raggiungere a livello di obiettivi, ma è certo vero che, pur non ponendoselo personalmente come un ostacolo da superare, causi oggettivamente delle questioni. Per cui in realtà il messaggio sbagliato non è probabilmente quello di, non è solo quello di Erdogan, ma è il messaggio di un Charles Michel che non è riuscito a rispondere alla situazione esattamente come se poi è vinto dalle risposte del web, molto scandalizzate più per il gesto, che forse francamente un po' ce lo si poteva pure aspettare, ma da quello che ha fatto insomma il collega di von der Leyen. Mi viene da dire che forse stiamo entrando in un era in cui certe cose finalmente non sono più accettate, che sicuramente in questo hanno delle responsabilità positive, intendo, le nuove generazioni, e che probabilmente è giusto così. Quindi il punto non è tanto, non è solo di principio, è anche un punto, e questo l'abbiamo visto con un altro famosissimo influencer, non so neanche come definirlo, un personaggio del web che ha oggettivamente la fatta fuori dal vaso nel tema del catcalling ed è stato, ed è stato insomma, oberato di non tanti insulti, ma di puntualizzazioni, ecco mettiamola così, tanti defollow, eccetera. Qua apriremo, apriremo un capitolo totalmente nuovo che non ho intenzione di aprire adesso. Detto questo, concludo dicendo che chi ha la visibilità, chi è esposto, ha la responsabilità, e quindi episodi come quello di Charmichelle, che non si preoccupa della situazione, probabilmente sono molto incresciosi, esattamente come sono incresciosi anche gli episodi di chi appunto minimizza il catcalling. Mi auguro che sia anche un momento in cui sappiamo scegliere meglio, non tanto solo chi ci rappresenta, quanto più le persone che scegliamo di avere come punti di riferimento sul web e nella vita, nel senso che, certo, sbagliare può capitare a tutti, ma quando si è portatori palesemente di messaggi medievali, forse due domande ce le dovremmo porre anche noi. Detto questo, l'importanza di questo video voleva proprio essere parlare di un cambio radicale delle visioni, finalmente, ma anche di quanto è importante, da un punto di vista di visibilità, possono essere importanti certi gesti, quindi non minimizziamo e anzi staremo a vedere quali saranno le conseguenze. è un episodio estremamente spiacevole, ma almeno nel 2021 ne parliamo. Poi forse abbiamo anche intenzione di fare qualcosa, perché non si ripetano più, ma... fatemi sapere cosa ne pensate, posto che abbiamo chiaro che cosa significa il femminismo, è Stop Whining.